Ogni partita noi cerchiamo di regalare una soddisfazione ai tifosi, a volte ci riusciamo, tante altre volte no, ma è chiaro che il nostro intento è quello di entrare in campo per fare una prestazione positiva e cercare di fare un risultato positivo, questo lo è sempre, a maggior ragione che veniamo in casa da una sconfitta brutta contro il Montevarchi. È la terza partita in una settimana ed è chiaro che la fatica si fa sentire e dobbiamo valutare tanti giocatori. A Ziosmanovic proveremo a recuperarlo anche se sarà difficilissimo, Pinto anche lui proveremo a recuperarlo, ma è uscito estremamente affaticato e quindi non vogliamo neanche correre il rischio di perderlo per diverse partite. Bellucci e Cucurullo è tornato ad allenarsi questa settimana, però non sarà della partita, contiamo di riaverlo per la prossima. Sappiamo di affrontare una squadra costruita per il vertice della classifica, una squadra ricca di talento, di qualità, di esperienza, un allenatore ipernavigato che è un punto di riferimento per noi più giovani, ha vinto tantissimi campionati. Sappiamo che la partita è estremamente complicata e difficile, ma non per questo ci dobbiamo precludere la possibilità di fare un risultato positivo, anzi c'è massimo rispetto, ma anche la volontà di dare qualcosa in più per cercare di arrivare velocemente a quello che è il nostro obiettivo, che è quello della salvezza.